Bel dribbling di Guerinoli che poi apre in maniera splendida per Pietro Polli, dentro l'Ara Pietro Polli il suo destro, 2-2, Pietro Polli, incredibile, incredibile, all'ultima chance, il paradello sente il 2-2, pazzesco, pazzesco, è entrato sulla destra Pietro Polli e ha fatto partire un destro al full micotone sul secondo palo, giocatore stratosferico il numero 10 del guaranello, giocatore stratosferico, si è infilato nel corridoio giusto e poi ha calzato con una precisione impressionante che dopo 90 minuti di corsa, dopo 90 minuti di grande sforzo e dopo uno scatto di 50 metri ha avuto ancora la lucidità per calciare in maniera chirurgica sul palo lungo e trovare il 2-2